Ed eccoci qui con il nuovo episodio della vita in città, quest'oggi dobbiamo fare l'inaugurazione del nostro zoo, dobbiamo andare a mettere nei nostri recinti il leopardo delle nevi e la volpe bianca con tutti i nuovi recinti che abbiamo già un pochino preparato ma in primis so che deve venire Mark qui da noi a chiederci che cosa vorremmo dentro casa nostra Buongiorno Salve, salve, buongiorno Salve Ho interrotto un discorso per caso Sì, sì, mi stavo domandando come mai ci vuoi chiedere degli oggetti che vogliamo dentro casa, cioè ci vuoi truffare Allora, in realtà io non l'avevo ancora detto, però vabbè, dai vabbè, lo dico Allora, in realtà, in pratica, io oggi, visto che ho fatto poco, fa i 300.000 iscritti Ok Voglio essere buono Oggi regalo 5.000 euro ai miei amici Cosa vuol dire? Regalo qualunque oggetto dell'IKEA volete voi, però soltanto 5 5 Cioè potete scegliere 5 oggetti dell'IKEA a testa Ok Quindi 5 affere, 5 step Wow E ve li porterò io all'interno di una scatola Oppure ve li lascio davanti a casa Io ce li ho 5 jacuzzi Dai Ma dai Eh beh, scusa, non hai dato, se non mi dai delle cose contrattuali Il problema è che poi il pil dell'IKEA con 5 jacuzzi mi si fionda verso il basso Eh, lo so, ma tanto È esagerato In questo periodo fallisce a priori, caro, quindi non c'è problema Allora, va bene, Steffo, 5 jacuzzi, Fere No, stavo scherzando, voglio altro Ma vogliamo andare a sceglierci o vuoi andare così? No, io farei tramite la casa Perché? Perché così guardiamo cosa ci manca Ad esempio, senza ombra di dubbio Io vorrei un tavolo e delle sedie più carine di questi Perché sono veramente tristissimi Ok Ok, tavolo e sedie E me le sedie contano come Facciamo così Allora, facciamo così Le sedie è un bundle Quindi Quattro sedie, un oggetto Il tavolo, un oggetto e siamo due oggetti Bravo Ok, mi piace Sicuramente il divano perché al momento siamo un po' È un divano degli anni 50 No, neanche Seppure rotto quando Yuri ci aveva distrutto la casa È in legno Cioè voi vi colicate qui e non vi alzate più Quindi sicuramente il terzo oggetto è il divano Quarto oggetto è la TV Dato che ce l'ha stata rubata e non l'abbiamo più rimessa È qualcosa per il bagno, Steff Io vorrei Anche se poi è più o meno un passaggio segreto Però vorrei tipo il WC, uno specchio, una doccia Se si può mettere qui o qualcosa del genere Dove stai andando a curiosare? Il passaggio segreto Ma quello è per fare le rapine Ma cosa? Eccolo dovevate fare le rapine Eh beh, certo Nel nostro bagno Non lo sapevi ancora? Non l'avevo mai visto Ma lo sa chiunque Vabbè È bellissimo Infatti abbiamo tenuto per ricordo Comunque sì, qua facciamo la doccia Ehm Il WC e lo specchio WC e specchio Va bene Va bene, anche il lavandino Dai per la sua Eh, anche il lavandino E mi sa che siamo apportati Posso così, Steph No, beh, però Non ho contato tutto Però cos'altro ci serve? Io adesso l'ho detto scherzando Ma almeno una jacuzzi Nel giardino ce la mettiamo, dai Va bene, dai Ok, allora basta così però Sì, però basta Dai, basta così Va bene Va bene, dai ragazzi Allora, quindi Ricapitolando Tavolino, sedie Cosa? Aspetta Allora Tavolino, sedie Mobile della tv, divano Mobile della tv, divano Divano Tutta la cosa del bagno E jacuzzi Ok, jacuzzi Un'ultima cosa Ok Poi decidi tu se ti senti qui tanto generoso Qui ci starebbe benissimo un pianoforte Un pianoforte? Sì Ragazzi, pianoforte Guarda Aspetta, pianoforte con pianola O con la coda bello? Aspetta, guarda Facciamo Facciamo quello bello E facciamo così Ok Ok Mi sembra giusto Generosità go go Diciamo Secondo me così ci sta Perché Fede Pensa che è bello qua Togliendo tutte queste schiftezzine Eh, quello sì Però Stef Ci migliora la casa Non puoi neanche sbancare il povero Mark Capisci È solo quello No, va bene Allora, lo accetto Fede Lo accetto Facciamo Ma ve li porto io Ve li piazzo io Facciamo così Sì Se hai voglia sì Volentieri Ok Ok, va bene Allora vi saluto Grazie mille ragazzi Perfetto Grazie a te Noi andiamo dal nostro manager Ciao Ciao Salve Gioele Come sempre Lei è il nostro preferito Perché ci dà dei soldi Che sembrano gratis Però in realtà sono di tutta Le nostre attività Però ci pensa lui No, infatti Noi paghiamo anche lui No, infatti Però Fede siamo arrivati a 10.000 Stiamo andando veramente Veramente benissimo Bisogna dirlo Secondo me Perché la stanza delle televendite Qua porta una fortuna Incredibile E il bambù mi dà un sacco di energie Comunque abbiamo tantissime cose Da fare questo oggi Quindi non perdiamo tempo Mi son perso Fede Stef, devi andare di qua Eh, ok Come fai a non sapere Qual è l'uscita Della tua stanza delle televendite E ogni tanto mi confondo Infatti se vedete Nella mia clipboard Al momento ho lasciato Solo l'inaugurazione Perché è un po' La cosa più importante Che dobbiamo fare Quando completeremo L'inaugurazione Resetterò tutta la nostra clipboard E metteremo tanti nuovi To-do list No, clipboard Ma clipboard non vuol dire nulla Non ci metti le clip To-do list Bene, ma andiamo a dormire? Sì Sì Stavamo uscendo Stavamo iniziando a lavorare Ma è ora di notte Direi che ci mettiamo a letto Nei letti difettosi di Ikea Ah, è vero Mi ho dimenticato di questa cosa Non ci sono più Aspettate che controlla Ok Cosa stai facendo? Sto controllando se ci sono serpenti Non c'è nulla Vai a dormire Stai tranquillo Buonanotte a tutti Ok, allora Dobbiamo fare un po' di cose Ho fatto anche il mezzo sbadiglio Per far finta che mi sono appena svegliato Ho visto che bravo youtuber Che sono Ferre Lo so, sei fenomenale Ferre, dove abbiamo lasciato il quad? Dove? Ah, il tuo scooter Non me lo scelgo Non me lo ricordo Vabbè, dai Usiamo gli scooter Oggi su Cambio di veicolo Una volta ogni tanto ci può stare Ok, che sono lenti Ma sono lenti ormai Rispetto al quad Dove ce ne siamo dimenticati? Scusami Non lo so Probabilmente sarà lo zombie Mi sembra Ma quanto andava lento questo veicolo Ho pure sbagliato strada Io ti seguo pure Va bene, dai Facciamo tutto il giro Vieni, vieni, vieni Ok Però stai dobbiamo recuperare il quad Che sei matto Salve, signorina Allora, andiamo di qui Guarda che bella la nostra ciambelleria Non è ancora arrivato nessuno a lavorare Ma dimmi te, oh Ma dimmi te Scansa fatiche Vabbè, molto presto adesso Vedi? Ecco Adesso è ora di lavorare Non criticare Siamo noi che ci svegliamo prima di tutti, Stef Ferre, se non vedo il quad Mi preoccupo un po', eh Cosa? Se non vedo il quad adesso parcheggiato Mi preoccupo Eh, pure io Allora, fatemi vedere un po' Ferre Ah, mi sono ricordata Mi sono ricordata, Stef L'avevo preso Per cercare di portare il leopardo Sì, e l'avevi lasciato? In mezzo alla strada Perché era impossibile portare il leopardo Per il quad E alla fine Ci mettono le multe Ma l'ho portato a piedi E quindi mi sono dimenticata del quad Stef, è stato molto difficile da gestire il leopardo In più Mi hai messo a lavorare A costruire tutti i nuovi recinti E gli habitat per il leopardo e la volpe Quindi me ne sono dimenticata Che vuoi da me? Ho lavorato un sacco Guarda che stanno già arrivando i primi clienti Allora, volevo un biglietto Guarda che oggi c'è l'inaugurazione C'è un bellissimo buffet dentro Ma me lo vuole questo biglietto? Sì, 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 sì Lo vuole, è andato, è andato Allora, comunque Come potete vedere Infatti è pieno di palloncini Eccetera, eccetera L'abbiamo anche costruito Appunto I due Come si chiama? Abitate I due Abitate per i nostri nuovi animali Che dovrebbero essere qui Allora Ciao, bellissima Ferè Ho già capito cosa vuoi dire Allora Tu l'altra volta non l'hai fatto vedere Perché io ci ho messo la vita ad arrivare Ma io ho lasciato il leopardo esattamente qua Qua, proprio in questa fence Io me lo ricordo come se fossi ieri Esattamente dove passano i clienti A te sembrava una buona idea Col recinto aperto dove passano i clienti Ma scusa Girati Guarda C'è Giulio Ho pensato che finché non mettevi il leopardo nel suo posto Avresti chiuso, Steph Abbiamo fatto impazzire Giulio Guarda come sta scavalcando tutto Steph, lascia perdere Giulio Dove è finito? Ferè, non ho idea Cosa vuol dire non ho idea, Steph? Ferè, ma non puoi lasciare un leopardo Io ho costruito i recinti Tu ti dovevi occupare di mettere gli animali, Steph Lo sai che è così Ferè, il mio animale di fatto è qui Quindi la colpa è tu Steph, cos'hai combinato? Io Sì Stava qui Io quando ho finito di allestire tutto Per il buffet L'inaugurazione di oggi Steph stava qui Vieni con me, vieni con me Questi sono appunto le zone dei recinti Abbiamo giusto un problema con le perde dei nevi Che potrebbero sbranare un po' di persone in giro per la città Ma non preoccupatevi Andrà tutto per il meglio Steph, ma poteva scapparermelo la volpe Che è un po' più tranquilla Eh sì, sarebbe stato decisamente meglio Ferè Lo direi Comunque, ovviamente come vedete Queste cupole sono separate da un vetro Quindi tranquilli Anche se vi sembrano attaccate Steph sta rimanendo fuori Ti devo dare una mano Non voglio spaccare i vetri Capisci? Se fai così però ce la fai Piano piano Apri Vai Ok, vai Yes Perfetto Dicevo quindi non vi preoccupate Perché il leopardo Vi faccio vedere da qua Se mai tornerà nel suo habitat Comunque non può raggiungere in nessun modo La povera volpe Esattamente E quindi ognuno avrà il suo spazio Ovviamente tutto innevato Perché mi sembra E abbiamo messo questi tipi di alberi Che sono in vendita E sono veramente bellissimi Io li adoro troppo Mi piacciono un sacco Anche se un po' mi fanno sciogliere la neve Non so perché Ma mi fanno sciogliere la neve Non so perché Però vabbè Secondo me Evidentemente non lo so Riscaldano attorno a loro Non so come funziona Esatto Comunque Allora Dovremmo un attimino cercare il leopardo Dovremmo essere più preoccupati Scusami Vabbè però Stef è scappato un leopardo Fede è madre natura No Stef Se tu non hai le bistecche Ti sbrana E tu Che sei stato Che hai avuto a che fare Anzi con le pantane Dovresti saperlo meglio di chiunque altro Caro Stef Ma infatti finché è lontano da me Sono tranquillo Stef dobbiamo andare Dobbiamo andare a cercarlo Dove andiamo a cercarlo In tutta la città ovviamente Stef Dobbiamo recuperare il quad E andare a cercarlo come Matti Perché con lo scooter Lui diventa più velocidione Ma Stef ma abbiamo l'inaugurazione Se la gente scopre Che noi stiamo cercando Il leopardo delle nevi Che abbiamo perso Cioè questo zoo fallisce Ancora prima di aprire E lo so Stef Ma vuoi che venga sbranato qualcuno Così lo zoo Te lo fanno chiudere Al sicuro 100% per sempre Ma almeno facciamo l'inaugurazione No Stef Stef Comunque vi faccio vedere Cosa abbiamo preparato Per l'inaugurazione Qua Abbiamo fatto tutta una zona carina Ci sono anche le luci Di sopra eccetera eccetera Già la mia guardia Con il cibo Già la guardia di fuori Per festeggiare Così avrò un invitato Ce l'abbiamo di sicuro È molto felice E questo quindi sarà L'inaugurazione Del nostro zoo Dove inviteremo ovviamente Mark, Marci, Gabby E tutti gli altri Sarà una cosa sicuramente Molto molto carina Però abbiamo Un problema Abbastanza importante Che mi è venuta fame No Stef Andiamo a cercare il quad Ok Sarò una persona terribile Di venuta a cercare il leopardo E Fede non so dove Vabbè girando adesso in città Magari da qualche parte Lo vedremo Non lo so Allora occhi aperti Sia destra che sinistra Ok Ok Magari non è andato lontano Allora Io non lo vedo Non è che magari sta da Gabby Da Gabby Allora mi viene da pensare Che un leopardo Non è che se ne va in giro Per una città Cioè scappa Di fronte al parco giochi Fede può essere ovunque Magari è andato al parco giochi Stef Boh Cioè come è andato dove c'è cibo Non lo so Quindi Non saprei Allora in mezzo alla città C'è cibo ovunque Ogni persona Che lavora nella città Stef è cibo Beh infatti è una situazione Abbastanza terribile Potrebbe essere ovunque Però non sento nessuno urlare Non vedo nessuno scappare Via dal leopardo Quindi Per ora potrebbe stare andando bene Magari aveva ancora La pancia piena La pancia piena Esatto D'altro che tu gli hai dato 433 bistecche Esatto Io gli ho dato tanti Quindi Non lo so Stef Speriamo bene Porca miseria Questa cosa è una tragedia Ma ti ricordi Guarda 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 qua Da Franco puoi trovare Si stanno facendo le pubblicità Da Mario agricoltura moderna 200.000 Che bello Aspetta Fere Prendiamo un quad Voglio andare a vedere quel posto No Stef Devi cercare l'accidente di leopardo Magari è lì Stiamo andando a controllare Se c'è leopardo Allora lo vedi Sta qui infatti di fronte Mi ricordavo bene Mi ricordavo bene Eh meno male Che ti ricordavi bene Però dai non era troppo In mezzo alle scatole Fortuna che Non ce l'hanno portato via Perché Gabby Che il poliziotto Ormai è troppo impegnato Con i suoi parco giochi Per far rispettare In gira pieno di nuove persone Questi qua io non li conosco Eh sarà arrivato qualcuno Visto che la città Si sta espandendo Già 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 Interessante Allora quindi noi passiamo Di qui Andiamo dritti per dritti A cercare ovviamente L'opardo delle nevi E troviamo Wow Che bello Semi di cacao Sui 5 euro Dovremmo triggerarci Perché fanno concorrenza Alla nostra fattoria Però noi alla fine fattoria Ci andiamo poco Perché ormai Stiamo lavorando solo allo zoo È molto impegnativo Senza offesa Ma noi siamo andati un po' oltre Cioè siamo partiti nella fattoria Ma noi gestiamo uno zoo Noi facciamo i viaggi Noi facciamo scappare Leopardi delle nevi Appunto Che ti sbraneranno E noi potremo rifare Gli agricoltori Perché falliremo Il nostro zoo Però sai Che mi piace molto Il suo posto Penso che ne Guarda quella sopra Che coraggio Però in casa Li rubiamo a sto posto Sì Se lo sbrana sì Vero Molto bello Dovremo dirlo Dovremo dirlo Vediamo cosa c'è dietro Guarda che bello anche fuori Con tutte le pecorelle Vieni a vedere qua Eeeh Strabello Sembra anche molto buone Trabello Questa è lattuga E ha molti più tipi di ortaggi E comunque coltivazioni Rispetto a quelle che avevamo noi Quindi Assolutamente sì Non solo ci fa concorrenza Ma ci schiaccia C'è fatto anche i punti C'è È proprio un campioncino Questo Mario Un campioncino agricoltore Complimenti Campioncino agricoltore È veramente Un campioncino Campioncinissimo Comunque Stiamo cercando Leopardi delle nevi Quindi Non ci interessa Non l'ho visto Muoviti Steph andiamo Di conseguenza Ma secondo te dovremmo chiedere a qualcuno Tipo Hai visto un gatto Un po' troppo grande Andare in giro per la città Spera Mi sembra un'idea terribile a me E cosa dobbiamo fare Non lo so Ma non dobbiamo far sapere Che cosa stiamo combinando Cioè secondo me È terribile Di conseguenza c'è ancora tempo E speranza Eh ma ci dobbiamo muovere Parcheggio Con calma Pensa alla jacuzzi Fere No Steph Pensa a questo problema Guarda Ma questa è la macchina di Gabby Uh sì Sì è la sua jeep Bella Oh Non possiamo rubare No vabbè Stiamo facendo un test Voglio capire Se vale la pena Comprarla Secondo me sì Molto carina Secondo me sì vale la pena Guarda come si muove bene poi Guarda adesso piace anche la retromarcina Sì ma riparchiggiare Riparchiggiare Un po' lente retromarcia Eh questo dobbiamo metterlo Vabbè la stai facendo lento pure tu Vai vai È più lento del quad secondo me Steph stai solo tergiversando Andiamo a cercare leopardo Basta Ok andiamo Steph Dimmi dimmi Abbiamo un problema Abbiamo un problema Ok Cioè tu sai che sei un esperto Con il tuo zoo Vieni vieni Devi guardare questo Ma cosa è successo scusate Eh Ragazzi è un leopardo È un leopardo È un leopardo Ma è il nostro Ma è il nostro leopardo Cosa ci fa qui dentro Più o meno Marci Marci perché sei lì dentro Eh perché praticamente in Africa Avevo addomesticato un ghepardo Questo è un leopardo È diverso Ah ecco perché quello era il problema Allora calmi tutti Teoricamente Fere dovrebbe Saperci avere a che fare L'ha catturato lei Eh lo spero Che magari non sia un po' arrabbiato In questo momento Perché Prova Allora Mi ha morso un po' le orecchie Tieni Ti do le bistecche che ti piacciono Tieni Sembra tranquillo Incredibile A me mi mozzicava Ogni due per tre Esatto Guarda guarda Ma io l'ho domesticato Così anche in montagna Ed è andato tutto bene Calmi Ma si Bravo 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 Scusami Mi sento messo in questa situazione No guarda Ci mancherebbe Ma anche tu che colpisci Con i picconi leopardi Sì non è una buona idea Mamma mia ragazzi Ma che disastro Come hai fatto scappare Non lo so Ma dove l'hai trovato Gabi tu L'ho trovato qui fuori dal circo Non so Perché Lo dicevo io all'inizio Stai Ho provato anche a telefonarti Ma non rispondevi E Fere l'ha lasciato In una staccionata Cioè Un leopardo delle nevi In una staccionata È ovvio che poi scappa Ti sarà morsicato la corda E sarà scappato Stai Mi devi passare la corda Non è morsicato solo quella Ti assicuro Allora Aspetta Aspetta Aprite la porta Apriamo la porta Non passa Non passa Perché lui è bello cicciotto Non ne ha fatto così Fere Sei pronta? Sì sono pronta Pensaci tu Allontanatevi State indietro Vieni qua che ti riporto Nel tuo habitat Bellissimo Ti abbiamo preparato Aspetta che ti apro anche qua Perché vedo che Non c'è abbastanza spazio Occhio ragazzi Non state troppo vicini Esatto Ti hai già assaggiato abbastanza Mi state facendo venire l'ansia Cioè io quando l'ho preso È andato tutto bene L'ho domesticato subito Non sapevo neanche Che fosse capace di morsicare così Evidentemente è scappato Si è spaventato E non lo so Se gli vedi quei dentini Forse capisci perché Dai Sembra tutto a posto comunque Meno male Dai grazie ragazzi Lo portiamo via noi Ci pensiamo a noi Tranquilli Addio A dopo Ciao amici Ciao ragazzi Ciao ciao Dai fare forza ci siamo quasi Allora devo per forza spaccare Perché altrimenti non passa Tanto un pochino di vetro Dovremmo averlo in avanzo E beh sì Ho costruito tutto io Ne ho ancora Tranquillo Ok Vieni qui Guarda che bello il tuo posto Sì Altro che quel circo brutto Guarda Questo sì Che è l'ambiente che ti piace Ok Ok Steph Ok Tu vedi la corda Leviamo la corda Io esco perché secondo me Anche una bistecchina Ok Così se ne sta tranquillo O tranquilla non abbiamo ancora deciso Io faccio il silenzio qui Rimetto il vetro E siamo a posto Tutto tappato Sì Per fortuna Io te l'avevo detto Steph che poteva essere al circo Cioè è giusto Scappi vai dritto Non possiamo Tu l'hai fatto fare tutto il giro della città Non possiamo più fare questi errori Io te lo dico Senza contare che ha mozzicato Sia Gabby che March Cioè rischiavamo di perdere qualche amico Oggi Steph Lo so però sono stati loro a fare cose strane Cioè stavano pronti a fare uno spettacolo Ma perché l'hanno rinchiuso? Povero Perché vanno a fare lo spettacolo del circo Ma è stato in realtà terribile Ma non puoi fare uno spettacolo Deve stare qui Assolutamente Questo posto bello grande Dove se ne può stare tranquillo Assolutamente Fere comunque dai Organizziamo la nostra inaugurazione Invitiamo tutti ufficialmente E vediamo un po' Se gli piacerà il nostro zoo Super bellissimo Ciao ragazzi Forza forza entrate Benvenuti al nostro zoo Questa è l'inaugurazione Sì oggi sì Certo È l'inaugurazione L'inaugurazione ufficiale C'è Cibo C'è Tobi È la nostra mascotta ufficiale Che bello È un po' alto No 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 È un essere umano Abbiamo un dubbio Quindi non ti avvicinare troppo È un porso un po' umano Però parla Vedete Ah però se gli dai la carta Comunque se la mangia Come gli orsi Non lo so se mangia Ma cosa stai facendo Marci Marci alzati Dovevo fare festa qui Oggi è festa Si rimane svegli di notte Si rimane svegli tutta la notte Allora Allora Vi facciamo vedere un pochino I nostri animali Sì Abbiamo qui Il leopardo delle nevi Che non è mai fuggito Dallo zoo Aiuto 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 Ma state tranquilli Ma no nulla Marci Tranquillo Tranquillo Sono loro che esagerano È stata un'esperienza piacevole Poi Sempre delle nevi Siamo riusciti a prendere una volpe bianca Che è veramente carina Quanto costa Sì Questa è gentilissima Questa è super docile È carinissima La volpe Non si può avere È illegale tenere una volpe in casa Non mica quella puoi avere così Posso dare del cibo? No Come no? No Ha una dieta specifica Nessuno cliente dà del cibo da mangiare Non ci sono queste cose da noi E poi lì stai dando un hamburger Criminale schifoso Guarda Se vuoi ho quello d'oro Piuttosto Non dire che te l'ho regalato Che succede? Vabbè Continua Continua Allora Qui Ci sono gli elefanti Ma in futuro Questa cosa ve la voglio spoilerare Faremo Una sorta di percorso Dove si potranno cavalcare Gli elefanti No Bellissimo E potrete fare la passeggiata Sopra gli elefanti È una roba incredibile Stiamo aspettando Che finiscano di crescere Per addomesticarli E dopodiché la creeremo Comunque sono Gino e Molly Loro sono Ok Un'attrazione incredibile Dello zoo Ci sanno Qualcosa mi dice Che qualcuno di noi Verrà calpestato Anche secondo me Anche secondo me È abbastanza pericoloso Basta che siete attenti Da questa parte Avevo i procioni Che sono sempre carini Roni Ma c'è Marci Ciao Ah questa è una cattiva però Battuta abbastanza cattiva Devo essere sincero Che bello Non ci voleva E poi qua c'è tutto Il banchettino Ma non correre sui tavoli Steph E poi mi hai fatto vedere Le panere Allora niente violenza Vedete Steph Ha terribile esperienze Con le panere Ogni volta che ha provato A darle da mangiare Le hanno muzzicato Cosa gli hanno fatto le panere Ho almeno 5 mosi di pantera Nelle gambe Che buono sta pizza Gabby sta già mangiando C'è un po' di tutto Ci sono dolci Ci sono panini Ci sono dog Gabby se la canta pure Non so Eh perché così è mia Capito? È una pizza E niente questo Però nel nostro zoo C'è da aggiungere Ancora tanto Molto bello Vorremmo fare un acquario Sott'acqua Sottoterra Bellissimo Magari con il del vetro Che si vede Bravo Il tutto di vetro Che si vede sopra I pesci che nuotano Bellissimo Però è un progetto Molto ambizioso Ci vorrà un po' di tempo Però non lo so Inizia a essere carino Te lo costruisco io 20.000 euro Te lo faccio Varete sapere quanto Costerà il biglietto Dal prossimo episodio? Quanto? 250 Ma come? La miglia è 250 Non verrà più nessuno Ok Buono fortuna E fatti scappare tutti Addio Forse dovremmo abbattare i prezzi Ciao ragazzi Io prima di andarmene Volevo dirvi una cosa Un regalino per voi Un regalino? Un regalino In realtà è per fiere Non è per te Ok Bello Praticamente sapete che ho fatto 500 miei skits Tutte queste cose qua Allora Ho un hamburger In diamante per te Ho visto che ti piace Anche per te Ho un regalo Stef Dimmi che di bambù Insalata Ma Insalata di bambù Ovviamente Cioè è ovvio Allora ti piace Non provarci mai più Questa è una ciambella di bambù Posso vederla? Tieni Ok grazie Ti lavo un hamburger Ok Va bene È uno scambio Bellissimo questo hamburger Ho messo il pezzo di pane Ho sbagliato Non ho indicato Anche nei giorni di festa Vabbè niente Ciao Addio Ciao Anche l'inaugurazione È completata Ormai il nostro zoo È ufficialmente aperto A tutti Qua abbiamo fatto Un bellissimo banchetto Una bellissima inaugurazione Ed ora in poi Dobbiamo continuare A lavare il duro Dobbiamo iniziare a fare L'acquario Che sarà secondo me Un pezzo veramente forte Secondo me Potrebbe ad esempio Eserci qui l'ingresso Che va sottoterra E poi continua Inesorabilmente In una maniera gigantesca Sì anche perché poi Se cuove sottoterra Comunque questa zona La puoi lo stesso sfruttare Sì ma guarda che Da quello che so Possiamo anche Spendendo un po' Espanderci Sì Eh sarebbe bello Lo so abbiamo bisogno Di tanto più spazio Farebbero fare tantissime cose ancora Quindi ci serve Un sacco di spazio in più Comunque Per questo episodio La vita in città Noi ci fermiamo Speriamo che vi sia piaciuto Qua sotto Questa è un po' Per altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao Ciao